Vasco Rossi e il tour negli stadi 2018, la data zero è a rischio Giusto qualche mese di riposo per Vasco Rossi per ripartire alla carica con il nuovo tour 2018 negli stadi, il rocker di Zocca ha già in mente la data zero, ma forse c'è un intoppo, un piccolo rischio che proprio il primo appuntamento possa saltare Tutti i dettagli Vasco Rossi in tour nel 2018, ecco la data zero, a rischio Il nuovo tour di Vasco Rossi, in programma per il 2018, è già in fase di organizzazione e, come ha detto il rocker su Facebook, andrà per stadi, ecco come ha risposto il Blasco a chi lo pensava in palazzetti e palasport, per concerti al chiuso Senza dubbio una buona idea, o comunque un modo per proseguire la sua quarantennale carriera prevedendo, però, eventi più raccolti e contenuti Ma diciamoci la verità, dopo gli oltre 230 mila di Modena Park, dopo quell'emozione incredibile e l'esibizione sul palco di un Vasco Rossi che va davvero al massimo, come si poteva anche solo pensare che il cantante Emiliano potesse fermarsi davvero? E la risposta arriva quasi subito dai social, il nuovo tour 2018 prevedrà almeno 7 stadi, ancora non definiti anche se tra le tappe potrebbero risultare le città già toccate dai Live Home 2015 e 2016 Roma è una delle più quotate insieme a Milano, ma il comandante ha fatto visita anche alle città di Bari, Napoli e Messina, senza dimenticare Torino, Padova, Bologna e Firenze Insomma, i fan, che a breve avranno la possibilità di incontrarlo di persona proprio nella città delle due torri, non vedono l'ora di sapere qualche notizia in più sui futuri programmi del loro beniamino Un piccolo indizio sulla data zero, comunque, lo abbiamo e, addirittura, ci sarebbe un piccolo rischio che possa saltare proprio il primo grande concerto di Vasco del 2018 Spieghiamoci meglio, secondo quanto detto sul resto del Carlino del luogo, pare che la prima tappa del Vasco Non Stop Tour si Ancona, Studios, di Modem, ha già mandato la richiesta al comune per poter organizzare l'evento in un periodo di tempo che va dal 10 maggio al 10 giugno, allo stadio del Conero Forse, però, c'è un inghippo Perché la data zero del tour di Vasco Rossi potrebbe saltare? Potrebbe esserci un problema per quanto riguarda la data zero del Vasco Non Stop Tour del 2018, ma il rischio, come riportato dal Carlino di Ancona, non dovrebbe essere poi così alto Generalmente, per Scaramanzia, non si parla mai di risultati finali a inizio stagione, dunque ci limiteremo a riportare i fatti, lo stadio del Conero della città marchigiana, in quel periodo, potrebbe ospitare i play-off di prima categoria dell'Anconitana, una squadra che ha vinto le prime tre giornate della stagione che dovrebbe concludere il proprio campionato il 6 maggio 2018 Non diremo altro, lasceremo ai lettori e ai tifosi dell'Anconitana valutare se si tratti di un rischio reale in caso di quale entità Per ora, ancora nessuna notizia, ma statene certi, Vasco Rossi comunicherà subito ai suoi fan ogni novità riguardo il suo nuovo tour negli stadi Grazie a tutti!